ciao a tutti oggi vi mostriamo un kit per iniziare a pirografare tutto l'occorrente che potrebbe servirvi se ancora non l'avete qui vediamo delle scritte fatte con uno stencil e in particolare un pirografo a penna un libro sulla tecnica della pirografia come iniziare quali consigli quale pirografo scegliere come lavorare il legno e non solo vediamo inoltre per esempio questo pirografo a penna che ha nove punte tutte incluse per fare il tratto di vari spessori la pirografia è la tecnica di scrivere col fuoco in quanto la punta del pirografo si scalda ad alta temperatura e permette di bruciare il legno lasciando una traccia occorre prima lavorarlo lisciarlo bene con la carta vetrata come avete visto queste sono alcune realizzazioni che si possono fare copiando dei disegni si possono trovare su internet su un libro su una rivista si fa il disegno qui ci sono alcune tavolette molto semplici di compensato il disegno può essere riportato con la carta carbone sul legno in questo modo si avranno dei risultati davvero piacevoli qui vediamo in particolare il libro sulla tecnica della pirografia dove vengono spiegate le basi della di questa tecnica alcuni suggerimenti alcune idee per realizzare oggetti o targhe disegni scritte personalizzare qualsiasi tipo di legno se siete interessati troverete tutto su elettronicadidattica.com ciao a tutti alla prossima